Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi posso parlarvi della quinta stagione di Cobra Kai. Ho avuto la possibilità di vederla in anteprima, infatti i 10 episodi arriveranno su Netflix solo fra qualche giorno, il 9 settembre. Oggi scade l'embargo e quindi posso parlarvene finalmente, ho visto gli episodi qualche settimana fa. Prima di iniziare a parlare di Cobra Kai, come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, trovate i link in descrizione, assieme al link di Pampling, il sito di t-shirt e non solo a Tema Nerd, dove trovate le t-shirt che stanno scorrendo adesso sullo schermo. Ci sono anche queste due a Tema Cobra Kai che sono stupende e ancora per qualche giorno tutte, dico tutte, le t-shirt del sito sono a soli 10€ invece del prezzo solito. Quindi affrettatevi ad acquistare sul sito in questo momento se volete qualche design. Il mio codice è sempre compatibile anche con questa promozione, quindi con il codice Il Pensiero 4, che è appunto il mio codice personale. Avrete la possibilità di scegliere un paio di calze dal catalogo, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma adesso parliamo della nuova stagione di Cobra Kai perché, come avrete sicuramente letto dal titolo, non ne sono rimasto così tanto contento. Per un po' è stata anche nella mia top 5 serie preferite e non sto scherzando. So che per alcuni potrebbe essere esagerato, per molti è una serie che si ripete fin dalla prima stagione, e queste cose ovviamente le ho notate pure io, però vedetelo come un mio guilty pleasure. Con il finale della quarta attendevo questa quinta stagione tantissimo, davvero non vedevo l'ora di scoprire cosa sarebbe successo dopo quello che abbiamo visto in quel finale. Tranquilli ragazzi, in questo video non ci saranno spoiler della quinta stagione, anche perché deve uscire per voi, ma ci saranno spoiler dalle altre, quindi se ancora non le avete viste uscite dal video e tornate solamente dopo. Nel finale della quarta abbiamo assistito alla vittoria di Tori, quindi del Cobra Kai, in un importantissimo torneo che avrebbe fatto chiudere il dojo perdente tra appunto il Cobra Kai e il Miyagi-Do fuso all'Eagle Fang. Vincendo appunto Tori, Lorenz e Larusso hanno rispettato l'accordo, almeno all'inizio, chiudendo il loro dojo, ma allo stesso tempo già nel finale ci venivano rivelati diversi piani di Silver. Infatti il torneo è stato vinto solo per corruzione dell'arbitro, e questo Tori l'ha scoperto. Inoltre è riuscito anche a far arrestare il suo compare Chris con il suo altro piano, con tanto di collaborazione da parte di Pastinaka che si è fatto pestare da Silver per poi dare la colpa a Chris. Proprio nell'ultimissima scena della quarta stagione abbiamo Daniel Larusso davanti la lapide di Miyagi, e a lui si avvicina Chosen, un personaggio che conosciamo dai tempi di Karate Kid 2, ma che è comparso anche in Cobra Kai più volte. Dopo aver chiuso, rinasce già nel finale della quarta stagione il Miyagi-Do. Passando adesso a parlare effettivamente della quinta stagione, ricordo, senza spoiler, ammetto che questa volta ho sentito molto più pesanti i difetti di cui si parla da anni, ovvero la lentezza, la ripetitività degli eventi, le romance teen, che sono presenti effettivamente dalla prima stagione, perché comunque sia Cobra Kai che Karate Kid sono prodotti indirizzati a un pubblico di teenager. E ultimo, ma non meno importante, ogni scusa è buona per iniziare a combattere. E non sto dicendo che tutto quello di cui ho parlato in questo momento è comparso così totalmente a caso nella quinta stagione, esiste dalla prima, però questa è la prima volta che mi dà così tanto fastidio. Sempre tornando alla lentezza, infatti, la trama prima di partire ci mette un po'. Con quello che vediamo nel finale della quarta stagione io avrei voluto vedere un inizio diverso, sì, tornando appunto al quotidiano, quindi ricreando il dojo, i dojo in questo caso, però non so, avrei voluto giusto qualcosa di diverso. Anche perché, ripeto, si concentrano soprattutto all'inizio sulle sottotrame che non servono a portare avanti la trama centrale di Cobra Kai, ovvero sconfiggere in qualche modo Silver. Anche l'utilizzo di alcuni personaggi non mi è piaciuto. Per esempio uno dei personaggi che più odiavo, ovvero Hawk, Falco, qui non serve nemmeno più, è diventato un personaggio inutile. Stessa cosa anche il compare, Dimitri, se non sbaglio, sì, si chiama così. Mentre nelle altre stagioni sembravano non così tanto importanti come personaggi, ma almeno facevano qualcosa, in questa quinta no, stanno davvero tanto, tanto di lato. E quelle poche volte che stanno al centro della scena lo sono perché devono iniziare a combattere, solo per uno spintone, uno sguardo, un po' storto, ok, ogni scusa è buona appunto per combattere. Ma se devo dirla tutta, non mi è piaciuto nemmeno l'utilizzo dei personaggi di Tori, che pensavo potesse essere giusto un po' più importante per tutta la stagione, non solo verso la fine, ma ho qualcosa da dire anche sul personaggio di Chris, perché non è uno spoiler, nella quinta stagione si vede ancora Chris, nonostante sia in prigione, ma ammetto che avrei voluto un altro trattamento per il personaggio, non fuori di prigione naturalmente, però un qualcosa di diverso anche in questo caso. È davvero difficile non fare spoiler, però sì, devo trattenermi in qualche modo. Per quanto riguarda invece i personaggi principali, veramente principali, quindi Lawrence, Johnny, chiamiamolo Johnny, Daniel, poi Miguel, Robbie, se lo vogliamo vedere come centrale, anche se per me i centrali sono per lo più Daniel e Johnny, aggiungiamoci anche Miguel in realtà. Per quanto riguarda sia le loro storie singole, quindi le sottotrame che vengono portate avanti molto di più della trama principale, se vogliamo vedere queste sottotrame singolarmente, possiamo anche accettarle, sono portate avanti bene, non annoiano, non dico che sia noiosa, è abbastanza lenta, ma non è sinonimo di noia. La sottotrama più importante per quanto mi riguarda era quella di Miguel alla fine della quarta stagione, ovvero che va alla ricerca del padre. Sfortunatamente però in questi nuovi episodi viene trattata in un modo molto molto strano, quindi non vado oltre, ma vi dico che non me lo sarei aspettato in questo modo. Avevano davvero tutto il minutaggio che volevano, potevano anche togliere del minutaggio a certe sottotrame di cui non me ne poteva fregare di meno per darlo alla ricerca del padre, al ritrovamento del padre come volete chiamarlo, e invece no. Finisce tutto troppo velocemente. In ogni caso, quando la trama inizia a farsi sentire, la trama centrale inizia a farsi sentire, non che vengano abbandonate le sottotrame, quello no, però inizia ad essere più al centro la storia principale di Cobra Kai, quando entriamo nel vivo è ormai troppo tardi effettivamente, perché siamo a più della metà della stagione. Per tutto il primo tempo, per tutta la prima parte, c'è solo una preparazione condita appunto dalle sottotrame. Combattimenti a caso di qua e di là, ma vabbè, questo lo lasciamo perdere, perché appunto è la prorogativa di Cobra Kai e non è un problema, sinceramente. Però si inizia a fare sul serio dalla seconda parte, anche perché certi grattacapi vengono a galla, iniziano in qualche modo i veri scontri e tutto finisce con, come sempre in realtà, uno scontro finale. Questa volta un po' diverso dal solito, diverso dalle altre stagioni, e devo ammettere che mi sono gasato tantissimo. Questo, questo devo dirlo. Per la maggior parte delle scene dell'ultimo episodio ero stragasato. Ogni tanto si vede qualche spediente tipico di Cobra Kai messo a caso, quindi uno slow motion totalmente inutile in quel momento, ma che c'è? Ma vabbè, problemi che ho notato fin dalla primissima stagione, pare che dietro il computer a montare la serie ci sia Snyder, ma lasciamo perdere. Comunque, esito dello scontro, prevedibile, ma allo stesso tempo non del tutto. C'è qualcosa che mi ha stupito. Sfortunatamente avrei preferito un po' più di coraggio riguardo alcune scelte. Coraggio che non ho trovato non solo per alcune cose dello scontro, anche per un altro personaggio. Non posso andare avanti perché ovviamente farei spoiler, però penso abbiate capito un po' tutti. Se state guardando ovviamente questo video dopo aver visto la serie, penso abbiate capito un po' tutti di che personaggio io stia parlando. Avrei preferito dalla serie più coraggio. E invece no. È solo il modo per far continuare ancora Cobra Kai. E quindi voglio chiudere questa recensione dicendo che spero davvero che questa quinta stagione di Cobra Kai sia solo la lettera N nella parola fine. Incrociando le dita sperando che la sesta sarà l'ultima. Perché sta tirando tanto, tanto, tanto avanti. Un'altra stagione è sicura, l'ho già detto. Sia per il poco coraggio di una certa scelta, ma anche perché in qualche modo devono far finire un po' la trama principale, la storyline dei personaggi. Quindi almeno un'altra è sicura, ma spero davvero che sia l'ultima. Un po' di puzzetta iniziavo a sentirla già nella quarta stagione. Questa quinta invece sembra un po' più puzzolente. Speriamo che la sesta dia un finale, sempre se finale sarà, un finale più accettabile. Almeno discreto. E ve lo dico già adesso. Se in qualche modo sceglieranno di continuare anche dopo la sesta stagione, per me Cobra Kai può essere salutata tranquillamente. Reso conto di questa stagione, poi passiamo al voto, mi sento abbastanza deluso. Sì, da Cobra Kai, una serie che è stata per qualche mese nella mia top 5 serie preferite, mi sento abbastanza deluso dopo questa quinta stagione. Il voto che do quindi a questi nuovi dieci episodi, che vi ricordo arriveranno su Netflix il 9 settembre, è un 6. Nulla di più e nulla di meno, perché comunque c'è qualcosina che mi è piaciuto. Effettivamente, ripeto, le scene finali sono qualcosa di interessante, anche a livello visivo per qualcosina, per lo più però a livello di hype, di gasatezza. Ma ragazzi, se state guardando questo video prima del 9 settembre, quindi in questi tre giorni che separano il video dall'uscita della serie, fatemi sapere cosa pensate delle altre stagioni che sono uscite finora di Cobra Kai, e fatemi sapere ovviamente se attendete la nuova stagione. Se state guardando invece questo video dopo il 9 settembre, dopo l'uscita della serie, semplice, fatemi sapere cosa ne pensate, sempre con un commento, naturalmente. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link dei miei social e il link di Pumpling, codice ilpensiero4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. Vi ricordo che in questo periodo tutte le t-shirt, e dico tutte, sono a soli 10 euro ancora per qualche giorno. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao! Ciao!